In Italia sabato notte c'è stato un ben diverso terremoto che comunque ha spaventato molto nella zona di Catania. 4,8 gradi Richter in due giorni, 300 scosse. Cosa sta succedendo alla Sicilia? La collega della TGR di Catania, Antonella Gurrieri, lo ha chiesto ad un esperto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Continua a tremare la terra in Sicilia. Lungo i piedi dell'Etna da giorni si registra una sismicità diffusa con localizzazioni differenti che corrono intorno a faglie distanti l'una dall'altra. Prima la zona di Zafferana, poi la zona di Piano Pernicana, quindi versante nord-est dell'Etna e adesso tra la notte di venerdì e sabato nel basso versante sud-occidentale dell'Etna. Un'area che abbraccia l'area l'Etneo, che ovviamente è interessato da una serie di faglie attive che attraversano l'edificio vulcanico e che quindi rispondono eventualmente anche non solo allo stress tettonico di tipo regionale, ma anche a quello indotto da eventuali movimenti di magma nella crosta. Uno sciame sismico intenso, in due giorni registrate quasi 300 scosse. La sequenza si è aperta col terremoto più energetico di magnitudo 4.8, abbiamo registrato circa 240 scosse la prima giornata e poco meno di una cinquantina la seconda giornata. Questo già ci fa capire come si esaurisce la deformazione che viene rilasciata sotto forma ai terremoti. Lungo il territorio dell'Etna, quale area può essere dichiarata ad alta pericolosità sismica? Dunque la zona a maggiore pericolosità sismica è il basso versante orientale dell'Etna, nell'area compresa tra Cireale, Giarra e Zafferana. È attraversata da una serie di faglie attive ben conosciuta con il nome di Timpe. Un'altra seconda zona è quella che si sviluppa a cavallo della faglia pernicana, che attraversa zone largamente disabitate, quindi l'impatto sotto il profilo della pericolosità è modesto e basso. Poi abbiamo la zona appunto tra Biancavilla, Santa Maria e Ricodia, dove fortunatamente i rilasci di energia avvengono più raramente. Spesso si tratta di scosse non troppo profonde. Sì, nella zona di Biancavilla, Santa Maria e Ricodia, nel versante orientale dell'Etna, le profondità sono molto minori, siamo circa tra 1 e 2 km. Questo spiega anche il perché gli effetti sono così evidenti in superficie e il dannaggiamento spesso così intenso.